Allora, parte oggi la raccolta di firme per 5 referendum per cancellare... La Lega ci prova, raccogliere 500.000 firme per 5 referendum, tra cui spicca quello per l'abrogazione della legge Merlin, storico cavallo di battaglia del partito. Spogliamo dalle strade, regolamentiamo, controlliamo e tassiamo la prostituzione come avviene nei paesi civili, in Svizzera, in Austria, in Germania, non mettiamo più la testa sotto la sabbia e portiamo a casa anche 4 miliardi, quindi magari invece di far pagare la tasse sulla casa, facciare pagare le prostitute, penso che gli italiani sarebbero d'accordo. Una raccolta di firme che la Lega intende portare avanti in tutta Italia, da nord a sud. Si tratta di una battaglia di progresso e di civiltà, sostiene Salvini, regolamentare il fenomeno resta l'unico modo per contrastare la criminalità organizzata. Consentirebbe inoltre di combattere il degrado e tutelare meglio la salute pubblica. A sostenere il referendum anche alcuni volti noti, gli altri quesiti, l'abrogazione della riforma Fornero, quella dei reati di opinione, lo stop ai concorsi pubblici per gli immigrati e l'abolizione delle prefetture, che secondo i calcoli della Lega Nord permetterebbe un risparmio di 500 milioni di euro l'anno.